Grande vittoria oggi di Renchi Abra che fermano la seconda, sorridente il capitano Sorridentissimo, eravamo molto ottimisti, ci credevamo e abbiamo capito che partire già con ottima forza di volontà dà sicuramente una marcia in più e siamo molto contenti, si capisce quanto siamo sorridenti Lo dammelo a vedere che ha preso una pallonata ai geni di famiglia però I playoff ormai sono certi? Penso che siano matematici ma anche se non lo fossero noi comunque vogliamo vincere anche l'ultima, siamo decisissimi, vogliamo salire assolutamente in Serie A Che avversario vorresti incontrare? Uno qual è l'altro, qualunque squadra che meriti i playoff penso che sia una degna avversario, noi compresi Quindi penso che intanto c'è la prossima partita, poi i playoff vedremo chi incontreremo Adesso i Renchi Abra fanno veramente paura? Sì sì assolutamente, oggi abbiamo dato una grande prova di forza Oggi chi ti è piaciuto dei tuoi? Beh mi sembra facile dire Di Maio che è stato veramente il man of the match Ma anche Dario Giustiniano e Massimo sono stati grandissimi Tutti quanti abbiamo giusto bene, veramente bene Il prossimo torno ci sarebbe una partita facile contro il Triple X? Queste sono le partite più pericolose secondo me perché non bisogna mai prenderle sotto gamba Loro penso saranno incazzati perché vorranno fare il risultato Sarà una bella partita sicuramente, poi chi vivrà vedrà Un allenamento per i playoff? Chissà Certo sicuramente, speriamo di portare a casa altri tre punti Ho capito, va bene ragazzi, vi ringrazio, alla prossima Ciao ciao